Vedere le t-post di mio zio sembra quasi come vedere un meme per la prima volta Ah, ciao, siete qua? Allora, benvenuti a questa quarta puntata di Meme Review Nell'ultimo episodio abbiamo preso osso meme solo da bastardi dentro Bene, oggi prenderemo meme da... Il primo da ovviamente il sito che lo usavo nel primo episodio A poi a Reddit, sì proprio il Reddit che sarà scemo Quindi mettetevi la man pace e iniziamo subito Quando scopri che Musical.ly fallisce ma poi scopri che si trasforma in TikTok che è ancora peggio Oh, fuck, this is not TikTok not reveal E io l'ho disinstallato, ci volevo fare un sacco di video Ma è in gui tandes Applicazione gratuita, paga 2 euro per togliere la pubblicità Ma io spengo il wifi, applicazione gratuita Mmm, uuuh, cafone Sei un cafone Tu, 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 tu allora sei un imbrogione Vabbò, potevi pure mettere The Trickster Ma però, vabbò, meme a basso budget David, covid Una memata importantissima Ma però c'è un problema Non ci saranno abbastanza meme sul coronavirus per questo episodio Quando nel videogame c'è scritto più 16 anni ma io completo la trama in solo 7 anni Speed Nello scorso episodio avevo detto Quando usciranno i template con Stefano Super Gamer Non ci andranno Vabbò Comunque io ho una nota lunghissima di cose che ho fatto sull'SSPC Se volete la leggo se arriviamo a 20 iscritti Quindi fatevi un account fake e cliccate su quell'iscrizione Immagine del gameplay di aprile 2020 Carl il consumatore Wow, questo, sì, esatto Oggi i videogame sono diventati peggio Infatti metti una cosa qua, una cosa qua Cioè Super Staff Maker Ah, ma volete dire che io volevo fare un video di Super Mario Maker? Ma però c'era meno commentary e più gioco Vabbò, quando sarò rivoluzionato io potrò fare di meglio Ma comunque continuiamo Quando un tuo compagno di classe ti lancia la matita fuori dalla finestra E te lo lanci fuori dalla finestra Justice Eh, sì, questo vanno molto di moda I meme ti fa una cosa semplice Allora tu gli fai una cosa che lo fa sparire Quando... Adesso andiamo sui meme del Reddit meme Sita Quando tu stai finendo la Bibbia Ma un tuo parente ti scrive auguri Gesù è risolto e ti rovina il finale Mi hai spolerato Quando sulla carriera di FIFA Vinci tre triplette consecutivi con l'ascoli Giuse Mourinho Io bevo il mio bicchiere di birra Gli addetti alle analisi delle urine What the fuck? Quando il tuo amico ti spoilerà la fine della casa di carto E allora tu gli spoileri la fine della sua famiglia I want to die Ma perché avete messo il meme di Il meme Shrek spensierito invece del Stonx Justice Questa è proprio una corte Banditelo Quando da piccolo riparavi la ruota della bici da solo Mechanic E' già apparso prima Adesso è arrivato il template E diventerà davvero molto peggio Ti dico che non hai il cervello Panic Scopri che in apocalisse Zombie Saresti invincibile Calm Ti dicono che scherzavano Panic Panic Perché Perché mi mangieranno il cervello che i zombie Quando ti fanno gli auguri di compleanno Ma tu rispondi anche a te F*****g F*****g Che rum out Quando tua madre è appena tornata dai quattro luoghi ti dice dobbiamo parlare Coffindage Pfff 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 Vabbò Eh E' un meme che sta spopolando Di molto Io Io Prof Premete Alt F4 Prof di informatica I'm a joke you Stai scherzando Che capo di queste cose Quando da bambino facevi questo Che era Oh mamma mia Questo è bello Unlimited power Hulk spacca Io Accendo una sigaretta E poi la butto per terra Gli altri restautori di Notre Dame What Quando compri un puzzle alla scatola dice da sette anni ma tu lo mangi in un minuto Acceleration Yes Yeah Yes Ma perché dice mangi Si è un meme Anche se Fa schifo Ok Ammettere di non sapere Un cavolo E prendere tre Cervello piccolo Usare la scusa del wifi Per uscire dall'interrogazione online Cervello in espansione Usare la scusa della videocamera O del microfono Che non va Cervello Cervello Mille Di dire di avere il covid per uscire dall'interrogazione Cervello che spara raggi laser di conoscenza Dire la prof che tuo nonno è morto per la sesta volta e quindi non hai studiato per lutto Cervello galattico Dire la prof che il computer è un virus che chiude i programmi senza permesso Cervello super intergalattico Stare immobili per alcuni minuti mentre la prof cerca di interrogarti per far sembrare di avere problemi di connessione Cervello super intergalattico Tenersi un bicchiere d'acqua dietro al pc Berlo e poi fare finta di vomitarlo per uscire dall'interrogazione Cervello da dio Uomo primitivo Staccare la corrente quando viene scelto come interrogato Super cervello da Einstein moltiplicato per 3000 volte Super dio Yeah Oh Oh Ma questo Ne ho fatto uno Quando la tipa che ti dispiace dice che quando vi siete conosciuti è stato un colpo di fulmine I won But At What What a cost Sì Però piga Nessuno Io quando vedevo il mio fratello maggiore che si faceva inviare le foto dei compiti Wait That's illegal È illegale Punitelo Justice Quando vai a dormire stando sopra la coperta con piedi e gambe fuori dal letto E la schiena che non è rivolta contro il muro Mostri sotto il letto So you have chosen Yes 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 Quando tua mamma ti vuole distruggere perché non hai le ciabatte ma tu gli dici che tecnicamente è un rivestimento di pelle sui piedi che funge da ciabatte Mindsides Mega Ma basta Adesso chiamiamolo questo video Chiamiamolo Meme che vi faranno alzare il quoziente intellettivo a infinito Mamma è solo un raffreddore Dottore è solo un raffreddore Google Ok Get him Nella bara Quando eri in giro con tua madre le vedeva una sua amica Questa piccola madronovra costata 51 anni Eh ci credo Quando a colazione è finito il next week allora mischi cacao e zucchero per simulare il suo sapore Chemist Yeah Unisci queste due cose Sapendo che è più lungo il processo di questo che della cosa della sua amica Quando ti alza la palla campanile dentro casa e ti spari una rovesciata fortissima rompendo tutti i vetri Oliver Atton Chi se lo ricorda Oli e Benji? Nessuno Persone quando in chiesa bisogna cantare Persone quando passa il cesto delle offerte Wow Quando a scuola è l'ora di meccanica smiti un bullone Meccanic Secondo meccanic A tre like facciamo la puntata Only Stonks Io creo un meme Il mio cervello Metti al template i sottotitoli d'italiano Io No I don't think I will Cioè non lo voglio fare Quando tua madre viene di notte a prendere te e i tuoi amici fuori dalla discoteca Transit Vai a prendere Con il bocchino Con il bocchino Devi avere Quando i tuoi meme fanno tanti upvot ma non prendis il golden content così te lo metti da solo Stonks Quando Stormy decide se mettere il tuo meme golden content o stonks e ti mette stonks Visible frustration Quando faccio un meme arriva a 500 upvot ma non compare nel meme review di Stormy Io Fuckin' sure I'm out Stormy sconfigge la scuola sbagliata Ignoranza divina e risate Ita Ehi Sì Devi ancora sconfiggere questi due boss god di Dark Souls Pesca 25 carte o non uscite per la durata della quarantena Italiani Sincerious Uccidere 3186 persone sarebbe come piantare 20 milioni di alberi Google Bing Stupidi Io roppo il campanello di casa mia testimoni di Geova Ma che Francesi entrano in lobby Italiani Peace Was never an option Oh 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 Io vi distruggerò Voi stupidi Ita I francesi Che le bagriette Tutto Io che copio i meme sulla scuola sbagliata Così da copiarli due volte Mind the sights Mega Quando hai in un test a crocette Solo quattro scelte I Was never an option Cioè proprio Ha tagliato la piece E ha messo solo la I Ma comunque Questi sono Questi sono i meme per tutto E Ciao ragazzi Ita